ciao a tutti i ragazzi ragazzi bella no ho sbagliato dove sei tu no anzi vedi god 627244 qua c'è la mia abita fermo fermo va bene è brutto a questo tizio qua sopra ma cosa fanno con la sabbia oh mio dio sei pronto? mi sto spaccando la crafting vai vai no si è fatto il piccone lascialo scavare dai si deve scavare aspetta aspetta metti la sabbia sopra stoffa questo rotina sabbia sopra no adesso non possiamo adesso dov'è dov'è? è qui dove sono io dove sta che ne so però io non ti vedo pazzo ok 30 secondi dai vai spaccagliela oh la padella no 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 io sto preso le cose sei pronto lo picchiamo? sì sì aspetta hai paura ma io non ho nulla aiuto aiuto mi vuole picchiare è qui aiuto mi vuole picchiare aiia 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 sto morendo aiutami ti sto aiutando ma non croppa che bello possiamo mille cose vai vai eh sì che mi dai aiutami attento ci sono qui su dietro oi non ho nulla prendi tu dai dammi qualcosa non ho nulla mi aspetta che faccio farla di legno ma che piccone ah ok piccone ah ok spada perché di legno fammela di pietra ma la pietra ma la pietra è qui sotto guarda aiia guarda qui sotto non ho niente guarda dove sei è morto dove sei ok in pietria qui esplode quando il suo cosa esplode dove stai dove stai dove stai io sto qui ah ecco qui dove vieni dammi uccidiamo tutti andiamo a cercarli poi ma con il che fa che cosa si potrebbe avere qualcosa come oh c'è uno zombie zombie dove 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 avanti chi la la zombie vai bravo lo zombie sta killando a me aia aia ok mi devo fare male aiuto aiuto vai 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 andiamo a quasi prendo la legna prendo la piatta che ci facciamo una tornace ce l'ho io la posso fare io la tornace la posso fare io ah si 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 dove stai sto salendo lì stop dove c'è la crafting dove cazzo dai hai perso un blocco ma tu cosa hai di bello tieni toc schiappa la te la tornace l'ho data te schiappa la tornace cosa c'hai da cuocere eeeh questa devi fare la carne no si se vuoi cuocere non sta niente la torta con la legna ce l'ho io la legna ci si eeeh s'i 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 no ma quanti crafting ci sono, che cazzo quanto siamo ah si dai per sopra ma ci sono stati e si e quindi adesso non sappiamo da quale possa andare neanche noi sappiamo da quale possa andare neanche io voglio dire attento hanno scavato hanno scavato mettici sabbia no terra no perchè c'è qualcuno no casomai risalda eccolo stati fuori stati fuori da qui di fuori da qui di fuori dove vieni sto salendo ahhh dov'è l'ho visto qua aia mi mummilla stati fuori dov'è ma quella è una mucca aspetta eccolo sta qui dentro oh aspetta lo voglio killare lascialo a me nooo ah cosa c'è qui aspetta aspetta aia ma non c'è nulla cosa si è aperto si apre qualcosa guarda schiaccelo schiaccelo aia smettila dai smettila smettila pezzo di merda ha vinto illegalmente ragazzi come potete vedere da qui iscrivetevi commentate alla prossima eh si si ciao ciao a tutti